In compagnia della dottoressa Giulia Aprivi di Assocas Tecnici, le chiediamo appunto in questo convegno in cui si parla di sicurezza stradale, in particolare di OSAS, le chiediamo un parere tecnico, ma una definizione tecnica, che cos'è questa sindrome, quante persone colpisce, se si può sapere più o meno quanto è diffusa almeno sul territorio italiano? Sicuramente parliamo di una sindrome molto diffusa a livello nazionale, con una prevalenza diciamo in forma grave del 3-4% sulla popolazione generale, si tratta di una sindrome ancora molto poco diagnosticate, quindi questi eventi sono davvero molto importanti per creare diciamo consapevolezza e conoscenza anche nella popolazione generale e sensibilizzare su questo tema. Che tipo di problemi dà nell'espedamento delle funzioni che fanno parte della vita quotidiana alla persona? Sicuramente questa sindrome può determinare diversi problemi legati alla, diciamo da un lato a quelle che sono le comorbidità associate alla mancanza di un trattamento, oltre a sintomi più evidenti come in alcuni casi anche la sonnolenza diurna se non trattata. Il ruolo di appunto Assogas Tecnici in questo contesto è proprio quello di raccontare l'esperienza delle società di servizi che si occupano di garantire il trattamento di questi pazienti al domicilio e assicurarne l'adeguato trattamento appunto e essere di supporto alla comunità sanitaria proprio per essere certi che questi pazienti vengano correttamente trattati. Grazie alla dottoressa Giulia Pellini.